Dal pensiero di San Pio del 29 di aprile, la cena corporale deve prepararci a quella tutta divina della Santissima Eucaristia. Non bisogna mai prendere cibo più del bisogno nemmeno del necessario. Poco o niente basta per soddisfare la nostra gola. Tutto comunque deve essere regolato con la prudenza che è regola di tutte le azioni umane.